The Football Story 2030 presenta un mito del calcio. Claudio Sala, nato a Macerio l'8 settembre 1947, è un ex calciatore di ruolo centrocampista e allenatore di calcio italiano. Praticamente ambidestro, dribblava su entrambe le fasce laterali e calciava cross molto precisi con entrambi i piedi. Nella sua carriera ha agito in diverse posizioni, tra cui quelle di trequartista e di ala destra. Inizia la sua carriera nel Monza, fa il suo esordio con la prima squadra, in Serie C, nella stagione 1965-1966, e la stagione successiva ottiene la promozione con i Brianzoli in Serie B, il Napoli lo acquista per 125 milioni di lire, lasciandolo in prestito ancora un anno in Lombardia, qui gioca un anno tra i cadetti. Arriva dunque a Napoli nel 1968. Esordisce in Serie A con la maglia azzurra il successivo 29 settembre in Napoli-Verona, sostituendo a gara iniziata Harold Nielsen. L'allenatore Giuseppe Chiappella lo schiera più volte fra i titolari, utilizzandolo prima come jolly d'attacco e affidandogli poi il ruolo di fantasista e la maglia numero 10, dopo l'addio al calcio di Omar Sivori a metà campionato. Il bottino finale di sala con il club campano sarà di 23 presenze e due reti in campionato, quattro presenze e una rete in Coppa delle Fiere, quattro presenze e una rete in Coppa delle Alpi, e due presenze senza reti in Coppa Italia. Dopo un anno, infatti, il Napoli lo cede al Torino per la somma di 470 milioni. Con i piemontesi vince la Coppa Italia 1970-1971, quindi nel 1975 il nuovo mister Granata, Luigi Radice, lo schiera sulla fascia destra, come tornante. A fine annata vince lo Scudetto, il primo per il club dalla tragedia di Superga, e per un solo punto in classifica non sfiora il bistricolore l'anno successivo, in cui partecipa alla Coppa dei Campioni, in cui segna due gol che ne fanno il migliore marcatore Granata in questa competizione. Fondamentali, in questi anni, sono i suoi assist per i gemelli del gol Paolo Pulici e Francesco Graziani. Nel 1980, a 33 anni, e dopo 11 stagioni e 286 presenze e 25 gol a Torino che ne fanno tuttora il quarto come numero di presenze nella storia Granata, si trasferisce in Serie B al Genoa. Coi Rossoblu ottiene la promozione in Serie A, dove giocherà all'ultima gara della carriera nel 1982. In massima Serie totalizza 323 partite e 27 gol. A livello internazionale, ha disputato 18 partite con la nazionale, partecipando al campionato del mondo 1978 in Argentina chiuso dagli azzurri al quarto posto.